ciao santo ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono BOMMER BAYUNA! ragazzi abbiamo un modo di costruzioni per appunto fare qualche costruzione, io, qui, c'è un piccolo progetto di quello che voglio fare vorrei fare una specie di new gioco, chiamiamolo così, in minecraft, questo è un mondo come ho già detto di costruzioni, vi faccio vedere più o meno questa cosa vedrete qui, trovate qui, per esempio, non abbattere gli alberi, poi qui trovate alcuni cartelli tipo non calpestare le osuole, poi qui una bella fontanella, che si passa di qua, queste cose servono per, diciamo, far finta di attivare l'acqua, quanto gli attenzioni si può bere dalla fontanella, nel senso che si può, come avete capito poi, di qua c'è scritto, non potare senza permesso poi se lo sboio c'era un altro cartello, ma invece non c'è poi sono sicuro che ormai avete visto anche qui, questa cosa, e qua mi sa che erano gli altri cartelli, ma non tocca il cavallo, è mio, se no io ammazzo infatti lui è mio, io santo, cavallo ora usciamo ok ho preso un po' le cose che ci servono ok, cangelli e a reggiglione cangelli spavano spavano vabbè in primo e io di cavallo una forza io vi dico nel mio progetto ricostruire una forza per cavalli eeeh solo che non so molto bene ora come come farla allora prendiamo questo coso per perchè si chiara 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 se si chiara se non sbaglio prima mi chiara chiara ma anche l'acqua attento ok facciamo avvenuto un po' via di stanza ok devo fare bella grande adesso non mi vuole gira diciamo molto grande infatti se volete costruire se volete farla da voi se si può fare tranquillamente scusate quindi questa sarà diciamo tutta la stanza poi da qui uscirà una trava che percorrerà tutto lì dove ci sarà più o meno la pista ora faccio il chat finisco un attimo questa stanza ci vediamo dopo ragazzi c'è voluta un po' di tempo ma boom non l'ho fatta molto alta di 5 blocchi se non sbaglio ora da qui potrebbe sembrare anche un po' brutto ma qui comunque dopo vorrei fare un'altra stalla per cavalli magari poi scusate intanto se non ho fatto video in questo ultimo periodo ma solo che ragazzi ma non è vero quindi vai a fare qualcosa questo video questo caso mettiamo un bel po' di blocchi così qua ho un po' più spazio finisco il tetto e ti vediamo da questo qui a non fare niente iniziamo a fare qualche pubblicità non proprio i soldi ragazzi vi consiglio di passare dal canale di Pierro Matteo se non sbaglio comunque oppure Matteo 4 lol o qualcosa del genere perché ragazzi ha fatto un video di minecraft e così ora credo che purtroppo ha chiuso il canale non ne sono ancora troppo sicuro ma credo di si perché non sto facendo ultimamente molti video ma vien da passarci a 92 iscritti e a 100 iscritti uscirà una live non so se una live o qualcos'altro comunque ci saremo io e Giovanni Sbarra che sarei un altro youtuber andate a passare al canale che lui quel canale sono sicuro l'ha chiuso lui è andato a passarci ha fatto pochi video per ora e se scusatemi anche per me se non ho fatto anche video perché ve l'ho detto impegni impegni un po' che ora ho preso la mia ps4 nuova già da un bel po' di tempo sto pensando che potrei farci qualche video solo che adesso mi sto dando un po' di problemi perché playstation store non so se avete presente perché perché non sapesse cos'è no la ps4 perché io non so cosa playstation store è in pratica il negozio dei giochi della playstation tu vai là e ti puoi scaricare i giochi vorrei scaricarmi fortnite che lo conoscete tutti solo che mi sto dando dei problemi perché non lo so non mi fa indrare vabbè comunque questa cosa non riguarda voi ma riguarda me mi cercherò di fare qualche provvedimento o qualcosa teniamo questo panatissimo muro e l'ultimo blocco è tetto finito se solo riuscisse a metterlo evviva tutto buio paura mettiamo una bella torcia evviva questa va una torcia da queste parti ci vuole così tal perfetto ragazzi ho finito sia il tetto che il pavimento è venuto così il pavimento l'ho fatto di pietra se sentite qualcuno che tossisce è mia sorella anche prima stessa sembra mia sorella ragazzi non ci disturberà ora vediamo un po quindi da qua più o meno oh mio dio sarà l'entrata per gli uomini ragazzi disattivo la webcam per farlo non poter non poter metterla bella 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 ma per quale senso fammelo mettere bella bella Vita!